Senatore Rigoni, all'interno del decreto della pubblica amministrazione avete cercato di smontare ancora una volta il Sistri, perché? Perché non va assolutamente bene, lo dimostrano le prove di questi anni perché sarà l'ennesimo colpo mortale alle imprese che oltre alle enormi tasse dovranno fare i conti anche con questo sistema. Nell'emendamento della Lega Nord che cosa proponevate? Noi abbiamo presentato diversi emendamenti, uno voleva superare il Sistri per andare verso un altro sistema, peraltro è un emendamento analogo ad emendamenti presentati da altri partiti, primi SPD e PDL, ma questi l'hanno ritirato. Poi abbiamo presentato un altro emendamento che chiedeva almeno una fase sperimentale di un anno e poi altri ancora per ridurre la platea, salvaguardare le piccole imprese, gli artigiani, gli studi professionali. Tutto bocciato, era già scritto nel copione, peraltro l'operatività è dal primo di ottobre, prima della conversione del decreto, il governo, la maggioranza hanno preferito continuare il rapporto con la Selex e quindi evitare di pagare i danni per la risoluzione del contratto scaricando tutto sulle imprese che si troveranno da qui in avanti a fare i conti con questo sistema che in questi dieci giorni di funzionamento sta dimostrando di non funzionare. Ora è di straordinario per gli operatori delle imprese, malfunzionamenti, quindi rischio di penali, un insuccesso completo, il governo va avanti, noi non ci stiamo e comunque siamo stati gli unici a difendere le imprese. Grazie.